Amanti della cucina italiana, benvenuti su ItalianFoodNet.com Ma un sito tutt'altro che pericoloso, ItalianFoodNet, è la prima e unica web tv al mondo dedicata interamente all'enogastronomia italiana. Offre gratuitamente video, news, ricette e appuntamenti enogastronomici. Grazie al player presente sulla pagina si possono osservare chef a lavoro sempre pronti a mostrare la preparazione dei migliori piatti italiani. Molto ampia la sezione dedicata agli appuntamenti enogastronomici e sagre con più di mille voci ma anche ricette scritte e news, tutto disponibile nella versione italiana e inglese. Lo scopo è divulgare in rete l'antica e variegata tradizione culinaria del nostro paese e dare alle imprese italiane la possibilità di investire in un nuovo media, la web tv. Un progetto tutto italiano ideato da Sulai Michelin, esperta di comunicazione e fondatrice della Digital Mind, società di sole donne che hanno puntato sulla novità dei video online realizzando contenuti solo per gli utenti di internet. Arrivederci, ci vediamo saluto prossimo. Questa è Sky TG24